Allora, io oggi ho pensato di parlarvi di sport e di educazione del corpo, di sport e di educazione fisica, tra 800 e 900, e poi di entrare nel regime fascista, nel ventennio quindi, perché lo sviluppo dello sport e dell'educazione fisica a livelli di massa, diciamo così, avviene in quel ventennio circa nell'Europa, c'è l'esplosione dello sport, c'è l'affermazione tra la prima e la seconda guerra mondiale e in Italia quel ventennio è stato gestito, è stato dominato dal partito fascista che ha preso il potere, ha installato la dittatura, per cui abbiamo questa caratteristica particolare che in Italia la crescita e l'affermazione dello sport anche di massa avviene col governo del regime fascista, quindi è un'articolazione particolare. Ovviamente questo ha delle ricadute anche in termini di razzismo, dell'articolazione del razzismo, quando il regime deciderà di passare, diciamo così, da forme di razzismo più di fatto praticate nelle colonie, ha un razzismo di stato e poi ha un antisemitismo di stato. Io ho preparato alcune immagini per cui questi primi 40 minuti vi abbandono come immagine mia, che tanto non è che sia tanto utile, e metterei questo, proverei a presentare questo powerpoint in cui almeno proviamo a focalizzare alcuni punti, alcune immagini per focalizzare. Allora, l'integrità del vostro schermo, vediamo se funziona. Noi nella scuola primaria facciamo poca didattica a distanza, per cui vediamo se mi riesce subito di fare un minimo, forse sì. Sì, allora torniamo all'inizio, siamo alla fine, vediamo un po'. Presentiamo, e così dovreste vedere. Quindi, è lo sport sotto il fascismo, però per arrivarci faremo una mezza relazione prima, perché conviene avere un attimo le idee un po' più chiare di quanto sia complesso la declinazione sia dello sport che dell'educazione fisica in questi anni. Qua ci sono delle immagini che poi dopo spiegheremo, ma che sono collegate alle colonie, perché è una delle declinazioni di cui io mi sono occupato di più. Partiamo un po' da capire dove ci collochiamo. Allora, l'attenzione per l'educazione fisica, l'educazione dei corpi e la nascita dello sport come noi lo conosciamo, o almeno nella prima forma che poi si svilupperà e che arriverà alle forme di oggi, è collocata nella seconda metà dell'Ottocento. I due grandi filoni, potremmo dire, sono da una parte un filone anglosassone, semplificando molto, però per capirci, per avere qualche punto di riferimento. Un filone anglosassone, inglese, di sport atletico, atletismo, sport collegato al gioco, considerato una forma di educazione, quindi usato nei college proprio per aducare al fair play, al rispetto dell'avversario, al gioco, all'interno di regole condivise, che noi possiamo identificare anche col calcio, con rugby, con alcuni sport di squadra che progressivamente si diffondono nell'Europa continentale e oltre, attraverso proprio la marina inglese, ad esempio, che è una marina imperiale e che quindi ha nei porti, diciamo, esporta questa idea di sport. Questo è un primo filone, filone di gioco, filone di attività atletiche, sportive e competitive. Dall'altra parte abbiamo un filone più mitteleuropeo, più Europa centrale. Prendiamo la data di Sedan, 1870. La Prussia vince, stravince la guerra con la Francia. Nella riflessione europea si attribuisce questa vittoria anche alla scuola e all'educazione fisica corporea, premilitare e militare, che in plus viene applicata da tempo. Si dice che quei militari siano più forti perché seguono una preparazione fisica premilitare particolarmente accurata. Ed è vero che la Prussia sta proponendo nelle scuole e nell'associazionismo da tempo, collegata alla nazione, collegata all'idea nazionalistica di indipendenza e poi di affermazione della propria nazione, un'idea di attività fisica che è collegata all'attività militare, che è collegata al culto e al miglioramento del corpo, non inteso come corpo del singolo, ma del corpo della nazione composto da tanti singoli. Quindi ognuno fa parte di questo corpo della nazione e ognuno la deve servire con il massimo della propria espressione fisica. Questa idea di ginnastica, qua si usa il termine ginnastica, le associazioni ginnastiche nazionali nascono anche in Italia, e questo secondo filone, capite che c'è differenza dal primo filone, è una differenza sostanziale, questo secondo filone è quello che più prende corpo in Europa e anche in Italia in questi anni. Qua ho messo alcune date per capire come questo movimento cresce lentamente nell'Ottocento, però è interessante per me averle in mente. Allora dicevamo 1870 c'è Sedan, la battaglia di Sedan, 1878 viene introdotta l'educazione fisica nelle scuole italiane, quindi dopo Sedan si pensa l'educazione fisica, l'educazione del corpo deve essere uno degli elementi della costruzione degli italiani e la costruzione degli italiani deve essere anche una costruzione del corpo fisico degli italiani, un'idea eugenetica diciamo così, di intervento sui corpi per migliorarli, ma non come corpi singoli per la loro salute individuale come pensiamo noi, io faccio sport per tenermi in forma, ma per corpi perché costituiscono una parte di una nazione e in quello devono essere efficienti. Tenete presente che allora la scuola stessa non riusciva a coinvolgere tutti i bambini e le bambine della nazione, quindi è un inizio e anche l'introduzione dell'educazione fisica è un'introduzione più formale che sostanziale, ma che nel tempo produrrà dei risultati e quindi diventerà una delle caratteristiche da tenere in considerazione dello sviluppo della scuola. Parallelamente abbiamo degli sviluppi più veloci, più rapidi, nel 1888 il calcio, il football in Inghilterra diventa campionato, non significa che non si giocassero partite prima, però quando nasce un campionato significa che nasce una stabilità di un'attività di tipo sportivo, e il campionato di calcio porta con sé anche il tifo, quindi i praticanti dilettanti e i tifosi, i soggetti che guardano quelle partite, sostengono una o l'altra squadra e quindi in qualche modo sono legati a questa attività, che quindi diventa di massa. Il giocatore, il giocatore dilettante, il tifoso e il giornale sportivo, che comunica le informazioni al tifoso che è interessato a farlo e quindi una certa anche dimensione economica, sia per il campionato, sia per il giornale, per l'acquisto del giornale, per la possibilità di impiantare un giornale sportivo. L'Italia segue a distanza, in Italia il campionato di calcio nasce nel 1898, però vedete che queste dimensioni sono in parte parallele. Altre date importanti, sempre nell'ultimo decennio del 1800, nel 1896 rinascono le Olimpiadi sotto la guida di Lecoubertin, e la prima edizione quindi delle Olimpiadi moderne, un'edizione anche qui come il primo campionato di calcio, come l'introduzione dell'educazione fisica nelle scuole. Dobbiamo considerare queste date come date di inizio, date di inizio di un movimento che poteva anche fermarsi, che poteva decadere, che poteva esaurirsi nel giro di 10 anni, ma che invece non decade e che nel giro di 10-20 anni cresce, fino, adesso noi vediamo a distanza di oltre 100 anni, la potenza che hanno acquistato queste nuove istituzioni, come quelle delle Olimpiadi. In Italia nel 1896 nasce il giornale sportivo, bisettimanale all'epoca, esce due volte alla settimana, però significa che in Italia la borghesia, che comincia ad essere appassionata di sport, non certo la classe operaia che ha ancora molto poco tempo libero in quell'epoca, però la borghesia, che ha anche qualche soldo da spendere, comincia a spendere soldi per avere notizie del movimento sportivo, che in quell'epoca sostanzialmente in Italia è soprattutto ciclismo, tiro, scherma, non è ancora calcio, il calcio si affermerà progressivamente. In Italia ciclismo è un movimento sportivo che interessa, ma tenete in presente che ci sono, nel 1896 vengono censite 30.000 biciclette in Italia, con una popolazione che circa era poco oltre i 32 milioni, quindi significa che c'è una bicicletta ogni mille persone, e quindi è ancora un mezzo, intanto tecnologico, anche questo a noi fa abbastanza ridere, però se ci collochiamo nell'epoca, la bicicletta è alta tecnologia, e dall'altra parte è un mezzo di elite, è molto costosa, costa molti stipendi e quindi è qualcosa che si può concedere sempre la media borghesia e non certo il proletariato. Quindi perché che lo sport assuma dimensioni di massa, realmente di massa, ci vogliono ancora degli anni perché ci vuole un miglioramento delle condizioni della classe operaia, una liberazione di parte dei tempi della loro vita, che in questa epoca qua sono ancora molto scarse, e quindi un'occupazione di questi tempi liberi anche nelle attività sportive. Però intanto lo sport cresce, cresce nelle scuole, cresce anche nell'organizzazione delle gare ciclistiche, nel 1903 Tour de France, quindi una Francia più sviluppata, cioè come l'Inghilterra per il calcio, la Francia per il ciclismo precede l'Italia, tuttora il Tour de France è una gara di grande importanza, maggiore del giro d'Italia, però l'Italia segue nel 1909 anche con questo meccanismo, organizzata proprio dal giornale sportivo, dalla gazzetta sportiva, e quindi col collegamento tra guadagnare attraverso le informazioni sullo sport e promuovere lo sport attraverso il campionismo. Quali sono le dimensioni quindi che riguardano questa otto-novecentesca attività fisica e sportiva? Sono varie, e quindi le teniamo un po' presenti tutte quante, anche se non tutte riusciremo a seguirle nei dettagli, però le teniamo tutte presenti, e sono lo sport e quindi le competizioni, competizioni che sono sia nazionali, sia di campanile, di località, ma anche internazionali, e quindi queste competizioni internazionali significano anche in età di nazionalismo, siamo in età di grande nazionalismo, significano anche competizioni tra nazioni, tra il prestigio delle nazioni. Ogni volta che c'è una competizione internazionale tra due nazioni, significa anche che quelle due nazioni si misurano e sugli atleti viene proiettata, diciamo, la responsabilità di rappresentare la propria nazione. Quindi questa è una dimensione importante. Abbiamo la dimensione del tifo, abbiamo la dimensione della stampa sportiva, quindi la dimensione sia della gestione delle masse, del tempo libero delle masse, e sia una gestione economica, di un giro economico che comincia a circolare nello sport e che diventerà sempre maggiore. Pensate alle Olimpiadi oggi, quale giro economico ci sia attorno alle Olimpiadi, se si faranno, si faranno in presenza, con il tifo oppure no oggi. Un'altra dimensione è quella della pratica del tempo libero. Lo sport, l'educazione fisica, il culto, anche la sollecitudine al benessere fisico e corporeo, ha a che fare con la possibilità di disporre di tempo libero. Fino a che la popolazione povera deve lavorare 10 ore al giorno, 11 ore al giorno, per riuscire a mantenersi non alla domenica libera, è evidente che la cultura fisica non può esistere e lo sport è qualche cosa di altri. Ma progressivamente, man mano che le organizzazioni operai, le organizzazioni socialiste, strappano condizioni migliori per la popolazione, allora si liberano dei tempi e quindi la gestione di questo tempo libero, come declinare questo tempo libero, diventa una problematica, sia dei poteri e sia delle associazioni anche politiche. Il socialismo, ad esempio, discuterà molto su come, se sia positivo o meno lo sport, e all'inizio le risposte spesso erano negative, erano un inganno per il popolo, venivano considerate come un inganno per il popolo, per distoglierlo dai problemi invece reali e più importanti. Quindi, dimensione del tempo libero. Poi c'è la questione della scuola, dell'eugenetica, cioè dell'idea che l'attività fisica e lo sport, o comunque declinata secondo uno dei due filoni, oppure un misto dei due filoni, tra quello anglosassone e quello miteleuropeo, però l'educazione fisica significava costruire gli individui della nazione in maniera più sana, quindi assicurare vita e forza alla nazione. Questa cosa però poteva anche essere declinata in maniera più militare, faccio educazione fisica a scuola, la introduco e la declino in un certo modo per costruirmi dei futuri combattenti, oppure in maniera più individuale, più di benessere, faccio educazione fisica a scuola, perché la popolazione crescerà più sana e quindi avrà una vita più gratificante, più redditizia, ma per la nazione, in quanto insieme di individui, ognuno con la sua dignità. L'ultima declinazione è quella proprio militare, l'educazione fisica viene attuata, come dicevamo, da prima di Sedan in Prustria, e poi dopo sempre di più anche nelle altre nazioni europee, all'interno del mondo militare, per avere dei combattenti efficienti, in un'età di nazionalismi che dalla prima alla seconda guerra mondiale, sapete, vengono definiti gli anni del ferro e del fuoco, nel senso che ci sono guerre continue, ed è un periodo di vent'anni che sta tra una grande guerra e l'altra grande guerra, la più grande guerra della storia dell'umanità, e quindi, insomma, l'idea che avere dei corpi che possano combattere con efficienza è un'idea molto importante. Questa è l'introduzione. E adesso andiamo, abbiamo visto che si sviluppa questo sport, questa attività fisica, cresce prima della prima guerra mondiale, poi c'è la prima guerra mondiale che è un grande spartiacque, nel senso che si interrompe tutto, alcune declinazioni militari dell'educazione anche dei giovani, vengono prodotte, non so, i giovani esploratori, i boy scout nascono in Inghilterra, nascono con una declinazione anche lì abbastanza nazionalista, ma votata anche alla natura, votata all'educazione dei giovani, in Italia vengono riprese, in Inghilterra nascono nei primi anni del Novecento, primissimi, in Italia vengono fondate le prime associazioni verso il 1908-1909, adesso mi sembra, non mi ricordo esattamente, però la cosa importante è che nel 1915, quando l'Italia entra nella prima guerra mondiale, le associazioni nazionaliste dei giovani esploratori, si chiamano, non boy scout, cercano di affermarsi come gruppi che fanno educazione premilitare, la nazione è in guerra, ogni volta che la nazione è in guerra, il corpo dell'associazionismo si stringe attorno ai governanti, le associazioni dei giovani esploratori si propongono come il soggetto che educherà, che costruirà i futuri soldati in campeggi, in attività premilitari, e quindi vedete che lo sport si declina in maniera diversa e diventa educazione premilitare, evidentemente condizionato dal grande conflitto mondiale. Dopo la guerra abbiamo grande conflitto, il fascismo riesce a prendere il potere, io non mi dilungo in questo, diciamo, diamo per scontato che il fascismo con la violenza e attraverso le alleanze con una serie di partiti politici che ritengono che il fascismo possa tenere alla bada le richieste della parte socialista e comunista e quindi con qualche complicità anche industriale degli agrari, il fascismo riesce a prendere il potere e istituisce una dittatura. 1922 la marcia su Roma, 1925 la svolta dittatoriale diciamo vera e propria e inizia un ventennio, un ventennio in cui il regime, essendo una dittatura, cerca di gestire il potere in maniera più diretta possibile e lo può fare, nel senso che gli oppositori politici o sono andati all'estero, sono scappati in esilio o sono in galera oppure sono stati anche picchiati e ammazzati durante la presa del potere. Quindi il regime si propone come partito nazionale fascista totalitario, quindi che gestisce lo Stato stesso, Mussolini diventa il capo indiscusso e abbiamo questo ventennio. E adesso andiamo a vedere lo sport un pochino quali declinazioni assume in questo ventennio, perché è la cosa che ci interessa di più. Allora, intanto Mussolini. Mussolini si presenta come il capo indiscusso e istituisce attorno alla sua figura il culto della personalità. cosa significa culto della personalità? Significa che la sua persona deve diventare di esempio per tutta la popolazione. Anche la dimensione sportiva è una dimensione che lui cura particolarmente. queste foto che io ho preso da internet sono tutte foto che vennero diffuse all'epoca. Ovviamente sono tutte foto che Mussolini vista, cioè dà il permesso di diffonderle. Non tutte le sue foto vengono diffuse. Perché? Perché sappiamo bene che in una foto uno può venire male, uno può non esprimere quello che vuole esprimere. e invece tutta la comunicazione pubblica durante il regime fascista, soprattutto questa, era controllatissima dal centro. E quindi le foto di Mussolini che andavano in giro sui giornali o sulle riviste o nelle cartoline, diciamo così, dovevano essere state vistate da lui o dai suoi collaboratori. E quindi qua possiamo vedere l'autorappresentazione del regime nel suo rappresentante più emblematico. Come si autorappresenta il regime? Anche in altri modi, eh? Però nel corpo, come si autorappresenta? Intanto è un corpo virile, maschile. Maschio e virile. È un corpo sportivo che sa fare sport. È un corpo collegato alla tecnologia più moderna, gli aerei, che diventeranno poi un elemento di guerra fondamentale nella Seconda Guerra Mondiale. E però vengono presentati anche come attività sportiva, fanno parte insieme all'automobilismo dell'attività sportiva, intesa come sportiva, all'epoca come sportiva, però hanno un collegamento con la tradizione, la scherma, che è lo sport per eccellenza dell'Ottocento. È lo sport aristocratico e tradizionale. Il virilismo lo vediamo, no? Il petto nudo e l'atteggiamento sempre di grande forza. Il petto nudo anche nel lavoro, quindi lo sport e il corpo che viene coltivato nello sport deve servire anche a costruire dei lavoratori per le battaglie del lavoro. Tenete presente che l'Italia il grano negli anni 20, la campagna che il regime propone per produrre più grano viene chiamata battaglia del grano e lui stesso presta il suo corpo alla propaganda di questa battaglia per produrre più grano, per diventare meno dipendenti dal commercio internazionale. Sono anni di protezionismo e quindi ogni nazione cerca di essere indipendente dal commercio invece di costruire sul commercio, sullo scambio dei prodotti una relazione con le altre nazioni. Quindi questo possiamo già dal corpo di Mussolini individuare quali tipi di sport o di attività fisica vengono prodotte in quegli anni. Ma per farlo ogni regime ha bisogno di governare l'organizzazione dell'attività fisica dello sport e anche il regime avendo il potere assoluto essendo un regime essendo una dittatura può farlo e come lo fa? Lo fa gestendo i luoghi di potere dello sport. Lando Ferretti chi è Lando Ferretti? Ne prendiamo uno dei giratti del fascismo uno tra i tanti però Lando Ferretti è un uomo sportivo ha fondato società sportiva negli anni 10 è un interventista della prima guerra mondiale quindi è stato combattente ha avuto delle medaglie quindi si è fatto onore sul campo di battaglia della prima guerra mondiale che il fascismo riconosce sempre come elemento di rinascita della nazione è un giornalista sportivo nella gazzetta sportiva per cui ha anche questo passato cioè questo passato questa dimensione dello sport di collegamento allo sport che è in crescita negli anni 20 diventa fascista quindi aderisce al fascismo e quindi nel momento in cui nel 24 grande lista grande elezione dell'Istone lui si mette lui viene candidato nell'Istone del fascismo viene eletto e Mussolini i gerarchi diciamo lo pongono a capo del CONI del Comitato Olimpico Nazionale Italiano cioè dell'articolazione italiana del Comitato Olimpico le Olimpiadi vivono le Olimpiadi sono governate dal CIO Comitato Internazionale Olimpico e al CIO fanno riferimento i comitati olimpici di ogni nazione il Comitato Olimpico Italiano è quello quindi che fa riferimento alla preparazione degli atleti per le Olimpiadi il fatto che il fascismo metta subito un suo uomo a capo del Comitato Olimpico Italiano significa il tentativo di gestire direttamente l'attività sportiva in Italia quella olimpica quella atletica quella delle competizioni tant'è vero che il CONI assume una dimensione in questi anni non di indipendenza delle diverse federazioni sportive ad esempio federazione calcio federazione ciclismo ognuno fa le sue cose poi dopo si trovano nel CONI no il CONI le governa e quindi il sistema come spesso nella gran parte delle dittature è piramidale dall'alto c'è il CONI poi ci sono le federazioni sportive le gerarchie delle federazioni sportive sono decise dal CONI e quindi il controllo è massimo quindi il controllo dal centro è massimo questo significa che rispetto alle competizioni internazionali il fascismo riesce a governare la preparazione o lo spostamento delle risorse diciamo perché per fare allenare degli atleti si vogliono delle risorse bisogna sostenerli anche economicamente e allora questo sostegno questo sostegno questa organizzazione delle varie federazioni che possono produrre dei risultati internazionali deve essere gestito dal centro secondo il fascismo e questa cosa avviene altro esempio Achille Starace presidente del capo nominato da Mussolini il sistema piramidale sempre in cima sempre Mussolini Mussolini nomina Starace a capo del partito nazionale fascista negli anni 30 e Starace diventa anche viene nominato anche capo del CONI e quindi anche dell'attività sportiva quindi il partito fascista che cerca sempre più di essere l'entità che incarna tutto lo Stato diventa anche il soggetto che gestisce direttamente il Comitato Olimpico Nazionale Italiano cioè l'attività dei vari sport questa è la prima dimensione perché lo fa? perché gli sportivi sono degli ambasciatori come dicevamo prima di una nazione in un'epoca in cui le nazioni si identificano moltissimo con i loro atleti con i loro campioni vediamo alcune articolazioni di questa di questa dimensione che si sviluppa negli anni 20 ce ne sono tantissime e tra l'altro è un tema per me estremamente interessante da andare a studiare perché si mescolano elementi di storia sportiva di storia delle partite dei tornei con elementi di comprensione della storia sociale o della storia politica la nazionale di calcio del 34 quali partite vince e quali perde no? questo è interessante può essere interessante per chi segue il gioco del calcio chi era il goleador chi era che faceva più i gol chi era l'allenatore come si presentano con che schema giocavano però dall'altra parte non possiamo ignorare che quella nazionale diventa l'emblema dell'Italia e partecipa al campionato del mondo facendo il saluto romano quindi identificandosi loro come calciatori come sportivi non con il libero gioco degli sportivi pari agli altri rispettosi degli altri vinca il migliore ma come una nazione sono ambasciatori di una nazione che aspira che nel 34 sta preparando già l'invasione dell'Etiopia cioè un'ultima grande guerra di espansione coloniale che un paese occidentale farà nella storia del mondo per cui è importante capire entrambi gli aspetti nella storia dello sport a mio parere è una delle cose più belle è che gli aspetti sportivi e gli aspetti politico sociali sono estremamente legati insieme e non si possono comprendere gli uni senza tenere in considerazione gli altri comunque l'Italia nel 34 vince il campionato del mondo e inizia una serie di vittorie che la porta nel 36 alle olimpiadi di Berlino quelle organizzate da Hitler e anche lì per mostrare alla comunità internazionale la bontà del nazismo e la potenza del nazismo e nel 36 vincerà il campionato di calcio ancora la nazionale italiana e nel 38 rivincerà il campionato del mondo durante il campionato del mondo del 38 con la Francia che ha le magliette azzurre l'Italia cambia maglia e mette una maglia nera e gioca con la maglia nera anche questo è un dataglio interessante perché perché il colore azzurro della nazionale italiana non è neutro è il colore della monarchia l'azzurro è il colore della monarchia quindi l'Italia quando comincia a vestire una maglia nazionale sceglie il colore della monarchia e poi noi ce lo portiamo dietro senza averne piena consapevolezza oggi però era quello il colore il fatto che il regime fascista sceglie di abbandonare nel momento in cui c'è doppio azzurro di abbandonare la maglia della monarchia emettere la maglia del regime è un altro passaggio importante siamo nel 38 siamo in anni in cui i livelli di propaganda esercitati dal regime sono massimi sono gli anni anche dell'antisemitismo di Stato il fascio elittorio è già entrato nello stemma già negli anni 20 nello stemma nazionale italiano insieme allo stemma monarchico e nel 38 avviene questo questo ulteriore esitamento anche qui l'Italia vince anche qui l'affermazione di potenza attraverso lo sport crea un effetto positivo per quanto riguarda la gestione del regime da parte del fascismo altri atleti particolarmente emblematici Primo Carnera sempre per vedere come questa storia dello sport non è solo storia sociale ma anche storia di individualità Primo Carnera è un cantadino del Friuli è enorme quindi è veramente molto grande qua lo vediamo nella foto che lo vedete con Joe Lewis nel combattimento degli anni 30 Joe Lewis è sulla bilancia e quindi è l'alto come l'altro che non è sulla bilancia quindi è un colosso è un colosso che diventa campione del mondo dei massimi e che nella sua ingenuità diciamo così e comunque insomma in un regime non è facile distanziarsi dal potere dominante dopo le vittorie si fa vedere si fa fotografare in camicia nera in uniforme militare diciamo che si adatta a fare da propaganda al regime concedendo la sua immagine al regime come esemplificazione di un regime forte che sa affermarsi nel mondo ovviamente la sua la sua fama rimarrà tale fino a che continuerà a vincere non vincerà per molto tempo poi Joe Lewis ad esempio uomo di colore cioè uomo americano dalla pelle nera e quindi nell'idea del tempo appartenente a una razza inferiore lo sconfiggerà oltre ad altri e quindi a quel punto ovviamente le immagini di Primo Carnera non gireranno più con la stessa velocità in Italia perché il controllo da parte del regime della propaganda farà sì che le immagini perdenti degli italiani siano cassate siano non pubblicate nei giornali ci sono proprio le veline ai giornali che dicono questo è molto importante che Carnera non venga inquadrato e fotografato a terra perché perché lui rappresenta la nazione quindi sarebbe la nazione sconfitta e la nazione non deve essere non deve apparire sconfitta altra dimensione molto importante non c'è solo il campionismo non c'è soltanto non sono soltanto le competizioni internazionali ma c'è il l'educazione dei bambini l'educazione delle bambine e dei bambini il fascismo cosa fa? prende gli associazionismi che crescevano nell'Italia di allora pensate allo scoutismo che in quel momento negli anni venti si afferma come scoutismo laico soprattutto scusatemi è cattolico lo ricostruisce questa associazione per il tempo libero dei bambini gli dà anche delle funzioni particolari l'opera nazionale Balilla ha la funzione di insegnare l'educazione filica nelle scuole quindi di prendere direttamente in mano come opera del regime l'educazione fisica dei bambini nelle scuole e tra l'altro nell'educazione fisica nelle scuole introduce degli elementi premilitari cioè l'educazione fisica nelle scuole dei maschi deve essere orientata alla costruzione dei di giovani militari è molto importante è un regime espansionista che tende a voler conquistare territori in Europa e in Africa e quindi con un'idea abbastanza antiquata della potenza militare pensa che il numero di persone sia potenza militare già sia immediatamente potenza militare ignorando un pochino la tecnologia in questo senso e quindi organizza la crescita fisica dei giovani e delle giovani le giovani per essere sane adulte e produrre molti bambini i giovani per essere degli adulti soldati pronti a combattere in guerra ovviamente tutte queste esercitazioni coreografiche se le guardate in alto a sinistra c'è un'esercitazione coreografica cioè ma anche a destra sia le bambine che i bambini sono anche volte a costruire obbedienza è un po' la caserma nella caserma nessuno può agire da solo ognuno è un pezzo di un ingranaggio più complesso il sistema militare è quello l'educazione per i giovani italiani e le giovani italiane è un'educazione premilitare sostanzialmente che viene affidata perché viene organizzata quest'opera nazionale balila e vengono aboliti ad esempio gli scout e diventa l'unico organizzatore del tempo libero perché il regime ha bisogno di un controllo diretto mentre gli insegnanti mettiamo che adesso si instauri in una dittatura il regime non può cacciare tutti gli insegnanti gli insegnanti sono lì e continuano a insegnare e magari si sono formati in anni precedenti l'opera nazionale balila invece nasceva in quel momento e a capo di ogni organizzazione locale viene messo un miliziano cioè un un sostenitore del regime fascista anche violento che negli anni venti è stato magari uno squadrista e che poi il regime ha ha legalizzato come milizia volontaria di sicurezza nazionale quindi ha creato un corpo quasi militare nuovo con gli squadristi e questi poi possono andare a dirigere le varie organizzazioni dell'opera nazionale balila quindi capite e a insegnare educazione filica nelle scuole quindi capite la svolta fascista e militarista molto grande rispetto all'educazione e alla crescita dei corpi una piccolissima parentesi questo può essere già razzismo il confine tra razzismo e non razzismo è molto labile certamente nel momento in cui si identifica il corpo di un bambino con il corpo di una nazione si considerano quindi i corpi degli stranieri come corpi irrigiudicibilmente diversi e lo si educa per rafforzarlo e per porlo in competizione internazionale militare con altre nazioni sicuramente lì l'idea della razza c'è non è l'idea di un individuo semplice che nasce qua e che sostituisce con un altro individuo no quell'individuo è razzialmente collegato alla nazione è un razzismo di tipo nazionalista molto forte anche se non discrimina non c'è bisogno di cacciare gli altri per ora si è in una fase di costruire il noi noi tra virgolette non sono io però di costruire l'italiano come forte maggiormente potente poi ci sarà un momento in cui servirà anche cacciare via l'altro quello che non è noi l'altro e adesso arriviamo in quell'epoca lì sempre per per le scuole un piccolissimo appendice 1938 siamo prima della legge contro gli ebrei perché siamo ancora in maggio è un concorso per le scuole si chiamano ludi juveniles tra i temi viene dato questo il titolo è illustrare in modo chiaro e sintetico il principio in base al quale lo sport deve essere considerato come mezzo efficace per il miglioramento della razza e non come valorizzazione del singolo razza ancora è una parola che sta come corpo della nazione non ci sono ancora gli ebrei cacciati verranno cacciati c'è la propaganda però i giornali ne parlano di lì a due mesi verranno cacciati prima di tutto dalle scuole come insegnanti e come studenti e poi sempre di più in Germania lo sono da tempo abbiamo le leggi contro gli africani nelle colonie italiane però in Italia ancora no però chi prepara questo tema ormai lo sente per cui introduce la parola razza fino a 5-6 anni prima avrebbero scritto stirpe è una parola leggermente più neutra ormai la parola che diventa forte è razza e si chiede agli studenti di esprimersi su questo sullo sport e come come dicevamo prima come abbiamo spiegato fino adesso sport non come il singolo come valorizzazione del singolo ma come miglioramento generale di una razza che si appresta ad entrare nelle grandi guerre appena uscita da una Africa le colonie esistevano già nell'epoca liberale cioè fino a 800 inizio a 900 e il fascismo le eredita riconquista la Libia negli anni 20 l'entroterra libico e poi nel 35-36 conquista l'Etiopia una guerra grande guerra di conquista una guerra quindi non coloniale con dei gruppi sparuti di persone specializzate di militari specializzati che vanno a conquistare con armi tecnologicamente più avanzate ma proprio una guerra di massa 500.000 tra militari e operai militarizzati arrivano nel corno d'Africa per conquistare l'Etiopia contro il diritto delle nazioni ovviamente quindi una conquista assolutamente non giustificabile prima le colonie del fascismo sono nel corno d'Africa Eritrea e Somalia e la Libia Libia abitata pensiamo a Tripoli abitata da abbastanza italiani una comunità maggiore di musulmani e una piccola comunità di ebrei nel corno d'Africa invece la comunità italiana è estremamente ridotta Somalia e Eritrea e la popolazione è di pelle più scura di pelle nera quindi non araba ma con la pelle africana quelli che allora venivano definiti appartenenti alla razza negra tra virgolette ovviamente però questo si trovava nei libri di testo antropologici e scolastici bene nella nella concezione razziale non è che ci sia soltanto razza superiore e razza inferiore esistono tante razze e esiste una gerarchia tra loro per cui anche tra i colonizzati italiani ovviamente gli italiani si presentavano come i superiori quelli portatori della civiltà e per questo si sentivano giustificati il fascismo si sentiva giustificato nell'invadere altre popolazioni perché queste altre popolazioni venivano definite incivili e quindi il bianco è più civile però sotto non sono al pari livello gli arabi e gli africani del corno d'Africa sono gerarchizzati gli arabi sono più sviluppati perché? perché hanno la pelle più bianca perché sono nel Mediterraneo quindi hanno avuto più rapporti nell'epo e nel tempo con la comunità europea e quindi vengono considerati superiori tant'è vero che la differenza prima del 35-36 è forte tra la Libia tra le prime attività sportive che vengono organizzate in Libia e quelle nel corno d'Africa in Libia abbiamo ad esempio questo qua questo atleta Ali Baghdadi che arriva quarto in classifica in una gara di ciclismo e viene pubblicata anche in un giornale locale la sua foto è un campioncino musulmano Mohamed Krui è un altro che addirittura batterà gli italiani tanto è vero che le gerarchie fasciste grideranno pubblicamente l'italiano che si è fatto battere da un arabo che quindi non tiene conto della superiorità della nazione che doveva essere affermata però diciamo che lo sport quelli primi elementi di sport di tempo libero che vengono che si impiantano in Libia negli anni 30 all'inizio degli anni 30 è uno sport misto anche gli ebrei partecipano hanno una loro associazione sportiva che è il Maccabi che è un'associazione anche culturale molto aperta alle innovazioni nell'ambito dell'ebraismo e quindi nello sport che viene considerato come qualcosa di molto moderno un'incarnazione della modernità quindi questa pur rimanendo la gerarchia dei bianchi come superiori e come governanti della colonia però le attività sportive si possono ancora sviluppare in maniera mista nel corno d'Africa no nel corno d'Africa qua abbiamo un'immagine dei combattenti africani di cui viene esaltato il valore del fisico ma è un fisico che viene sottomesso alle utilità dei militari fascisti che hanno bisogno di avere dei militari che camminino molto che marcino molto e che quindi dal loro fisico tragano dei vantaggi militari per l'Italia però gli ordini e il comando devono essere sempre dell'Italia ed è non c'è certo uno sport ma è un inquadramento militare le attività sportive sono rigidamente separate invece nel corno d'Africa quelle poche che ci sono non sono miste non si mescolano i bianchi con gli africani diciamo dalla pelle nera la separazione è molto forte le tribune ad esempio ci sono indicazioni nei giornali che ci sono quattro settori di tribuna tre per gli europei per i bianchi e uno per le popolazioni locale questo prima del 35-36 quindi ci sono già diciamo che il colonialismo ha in sé il razzismo perché se no nessuna popolazione andrebbe a conquistare un'altra popolazione se non si sentisse superiore però prima del 35-36 abbiamo una situazione diversa in Libia e nel corno d'Africa in Libia un minimo una parziale inclusione delle popolazioni locali nell'attività sportiva nel corno d'Africa no cosa succede nel 36-37 che viene varata una legge Mussolini ha paura di questa vicinanza che si potrebbe sviluppare nell'Etiopia tra italiani e popolazione locale perché sostanzialmente pensa dove ci può essere vicinanza ci può essere quindi perdita di un prestigio di chi domina invece questo prestigio deve essere affermato e quindi il razzismo ci serve a questo e deve essere un razzismo non più che afferma semplicemente la superiorità del bianco ma che lo separa il bianco dal nero e quindi propone un apartheid una costruzione di due comunità separate la costruzione della società nell'Etiopia conquistata avverrà secondo questi criteri il mercato indigeno separato dal mercato per italiani il cinema per indigeni separato per il cinema per italiani le programmazioni del cinema indigene diverse da quelle per gli italiani gli autobus cioè gli autobus insomma questi camion che dovevano trasportare per queste lunghe distanze camion per indigene camion per italiani cose che ci risuono negli Stati Uniti la separazione dei posti a sedere e questo sarà la società che viene costruita nel corno d'Africa e quindi anche lo sport nel corno d'Africa rigidamente separato il campionato di calcio deve essere organizzato per gli indigeni perché sport significa anche gestione del tempo libero gestione quindi di queste popolazioni controllo lo sport significa sempre anche questo controllo però il campionato deve essere separato e un campionato per bianchi deve essere completamente indipendente qui abbiamo un telegramma rispetto alla Libia dove è un po' più difficile cambiare il corso perché abbiamo visto che c'era stata un rimescolamento e allora Mussolini si accorge quando sta per varare la legge contro le unioni miste nel 1937 si accorge gli viene segnalato che ci sono ancora dei campionati di calcio dove gioca la gioventù araba dell'elettore cioè una squadra fatta di arabi contro la squadra fatta di italiani e allora lui dice no adesso stiamo cominciando a lanciare il razzismo di stato che è un razzismo anche propagandato con una forte propaganda e non possiamo permetterci che giochino insieme arabi e italiani gli italiani devono essere vittoriosi quindi se li mettiamo a giocare insieme intanto li avviciniamo facciamo secondo lo spirito sportivo riconosciamo che hanno la stessa dignità perché giocano con le stesse regole e poi magari perdono gli italiani e quindi questa cosa non è opportuna quindi bisogna separarli solo che Valbo ha costruito su questa parziale assimilazione della comunità araba Valbo è il governatore della Libia ha costruito la sua gestione della colonia per cui all'inizio dice vabbè aspettiamo però come potremmo fare potremmo dice possiamo interrompere il campionato che è in corso senza però spiegare il perché poi in realtà questo campionato del 37 finisce inizia il campionato del 38 ancora con le squadre arabe significa che i riflettori dal centro non erano proprio puntati fortemente sulla Libia però il campionato del 38 l'estate del 38 è quella delle leggi razziali in in razziste in nel regno quindi contro gli ebrei in quel momento lì l'attenzione verso la dimensione razzista è talmente forte che Valbo deve interrompere quel campionato per cui non si sa chi lo vince e sui giornali stessi c'è lo scoramento perché non viene detto che viene interrotto per questo imbarazzo razzista della presenza di squadre arabe non viene detto quindi rimane in sospeso la popolazione si vede privare della fine del campionato di calcio in Libia senza una spiegazione chiara poi in Libia rimarranno sempre le squadre degli ebrei vengono anche quelle vengono escluse nel 40 addirittura il Maccabi viene considerata come un'associazione a delinquere per cui viene sospesa e chiusa e ovviamente l'inasprimento del razzismo verso gli ebrei sarà molto maggiore che quello verso le popolazioni arabe o le popolazioni africane le popolazioni arabe e africane devono essere semplicemente sottomesse gli ebrei devono essere devono essere anche progressivamente espulsi dal corpo della nazione e poi perseguitati nei diritti e poi nelle vite e quindi questo percorso diverso ci sarà dicevamo del corno d'africa questi sono la squadra locale ovviamente composta tutta da giocatori locali che viene pubblicizzata perché il regime si fa forte anche di questo nei giornali viene detto viene organizzato il campionato per indigeni delle varie governatorati dell'Etiopia e dell'Eritrea e quindi anche questo costituisce interesse sportivo per chi compra i giornali però separati rigorosamente separati la comunità coloniale viene ricostruita il discrimine di razza che c'era già prima abbiamo visto però viene reso molto più forte e soprattutto viene propagandato è giusto che loro giochino solo tra loro perché sono inferiori e non devono mescolarsi con il noi tra virgolette quello che dicevano loro il noi che è superiore il prestigio di razza superiore non deve essere attaccato dall'attività sportiva comune e nel 38 abbiamo detto che queste cose nel 36 37 nel 38 arriva anche la legislazione dopo una lunga campagna nei giornali una legislazione di prova a finire velocemente sono un po' in ritardo una legislazione contro gli ebrei questo è un giornale di Trieste a Trieste viene anche il discorso di Mussolini che annuncia la campagna contro gli ebrei per la legislazione razziale primo obiettivo della legislazione razziale è l'espulsione dalle scuole tenete sempre presente l'importanza della scuola e del mondo dell'educazione per questi regimi totalitari quindi ebrei esclusi dalle scuole e come insegnanti e come studenti anche come autori di testi però allo stesso modo anche dalle attività sportive dalle società sportive non possono più stare nello stesso luogo l'ebreo tra l'altro non è il nero che è inferiore nella propaganda che è inferiore e quindi va separato perché sennò l'italiano perde di prestigio e ci abbassa il suo livello l'ebreo viene descritto come l'essere che sta sempre complottando contro l'italianità è il complottatore non è inferiore anzi proprio per questo bisogna tenerlo distanziarlo e stare sempre attenti perché è sempre pronto a complottare contro la nazione questa è genere l'idea della propaganda e infatti in questo articolo di giornale ad esempio c'è tutto è particolarità degli ebrei essere particolarmente refrattari a certi generi di sport già l'ebreo diventa non più l'adesione a una religione tra l'altro per molti di essi non era neanche più una pratica religiosa magari erano erano laici però diventa addirittura una razza per cui l'ebreo diventa come se avesse una conformazione del nasno vengono inventate queste conformazioni fisiche per poterlo identificare e sono refrattari a certi generi di sport come al pugilato sport che viene vantato dal fascismo perché è lo sport del combattimento la lotta uguale l'atletica leggera gli sport delle attività di base che esplicano la forza del corpo o appena inclinati ad altri come il tennis anglosassone o la voga pensate a Cambridge e Oxford che fanno sempre le gare di voga di canottaggio in grazia ai quali intrecciavano non è che facevano sport per coltivare il loro corpo no in grazia della frequenzazione di questi sport intrecciavano amicizie e curavano più che lo sport i loro interessi quindi erano una borghesia ebrea che complottava e che curava gli interessi attraverso lo sport e vengono espursi e quindi anche nello sport vediamo funzionare i meccanismi della propaganda che vediamo in maniera molto più chiara in altri campi della vita sociale di quell'epoca però anche nello sport ci sono e funzionano tutti allo stesso modo anche lo sport è un'attività sociale estremamente importante dove l'epurazione degli ebrei funziona e anche nel campionismo no Art Advice che allenava qua al Bologna e in quegli anni che aveva già vinto il primo campionato a tornei unificati con l'Ambrosiana Inter non era più Inter perché Inter poteva ricordare internazionale e invece il fascismo era contro ogni internazionalismo per la lotta delle nazioni contro le altre nazioni però nel 30 vince il campionato con l'Inter negli anni 37 38 37 37 vince altri due campionati col Bologna come allenatore è un allenatore di grande di grande valia tra l'altro giovane ha due bambini che vanno nelle scuole qua di Bologna una moglie deve essere licenziato va in Olanda in Olanda tutta la sua famiglia finirà deportata nei campi di concentramento moglie e bambini muoiono nel 42 lui nel 44 Erbstein altro allenatore lucchese Torino anche lui cerca di scappare lui riesce a salvarsi la vita in maniera rocambolesca girando un po' tutta l'Europa e poi l'Ungheria che è la loro nazione di origine e quindi sopravviverà morirà poi con il disastro del grande Torino superbia e quindi anche diciamo le persone più emblematiche dello sport nazionale che hanno appena vinto come allenatori anche se l'allenatore non era così importante come oggi e allora però come allenatori due campionati di fila di calcio però sono ebrei e quindi sono cassati immediatamente concludo quindi perché dopo magari si parla in maniera più da domande e risposte la dimensione del razzismo la dimensione politica nello sport e in questo caso la declinazione razzista è scomparsa con quell'epoca? No è una dimensione fortissima che riemerge continuamente e lo sapete voi meglio di me io ho provato a pigliare un po' di cose io non seguo tanto più il calcio però pensate agli adesivi con la maglietta della Roma con Anna Frano la potenza di questa cosa di questa cosa razzista che è uscita nel 17 pensate anche alla situazione di questi di questi atleti di colore cioè la pelle nera che si trovano qui a giocare in Europa e che sono oggetto dalle tifoserie sempre di provocazioni e non so Dani Alders a me lo ricordo benissimo perché gli fu lanciata la banana come a dire sei una scimmia sei un nero sei una scimmia anche questo è uno stereotipo che vive da 300 anni e lui ebbe la forza no la la prontezza d'animo di prenderla di sbucciarla di mangiarsela e di continuare la partita per me veramente un grande non avrei mai fatto una prontezza d'animo di questo tipo sarei arrabbiato irritato da Matti invece lui con questo gesto qua riesce a rintussare questa questa offesa ma Boateng mi ricordo Boateng che di fronte ai fischi rispetto al al calciatore di colore si tolse la maglietta e uscì e pensate anche agli striscioni contro i calciatori o i tifosi del sud rispetto ai napoletani ad esempio è una cosa ricorrente bisognerebbe farci una ricerca lì e vedere quante volte riaffiora di quali tifoserie quali sono le tifoserie che costruiscono sulla sull'inferiorizzazione del sud Italia la loro la loro il loro amore per la loro squadra insomma un amore abbastanza pessimo però insomma la dimensione dello sport è una dimensione fortissima e sicuramente voi studentesse e studenti la conoscete meglio di me però è una dimensione che c'è sempre ed è sempre sottintesa il razzismo non scompare per sempre cambia le sue dimensioni cambia i suoi modi di essere muta come i virus con una rapidità più le società sono intrese del razzismo più muta velocemente il razzismo come proprio come i virus e però non scompare e quindi tenetevi sempre presenti a cercare di individuarlo dietro alle facciate perché la cosa importante è quello di scoprirlo dietro alle facciate invece unitari e semplici e buoniste e poi tenete presente ultimi due episodi allora Tommy Smith record del mondo a città del Messico nei 200 metri erano coinvolto nel movimento di liberazione delle persone di colore negli Stati Uniti degli afroamericani decidono nel podio di andare e di indossare dei simboli della loro subordinazione negli Stati Uniti per per introdurre nello sport degli elementi di antirazzismo guanto nero del Black Power senza scarpe solo con i calzini la testa reclinata questo significa la loro fine della loro carriera Tommy Smith ancora adesso allena allena o almeno fino a due anni fa mi ricordo che allenavo ho letto in sua intervista i ragazzini nei soborghi nei soborghi poveri della sua città quindi è una persona che poi nel tempo sceglie di continuare questa sua messa in gioco per degli ideali in cui crede sotto c'è Avery Brondage che è il membro del CIO che ancora nel 68 dirigeva il CIO il CIO sono queste associazioni che non hanno nulla di democratico è evidente che non c'è un'elezione per arrivare a capo del CIO ancora nel 68 disapprovò e fu tra quelli responsabili dell'emarginazione di Tommy Smith e di cui fece queste prese queste prese di posizione ma era a capo del CIO entrò nel CIO anche negli anni a partire dal 1936 quando c'era in gioco il boicottaggio delle Olimpiadi di Hitler e gli Stati Uniti non sapevano se partecipare o meno e lui lavorò alla grande per favorire la partecipazione perché i regimi totalitari fascismo e nazismo europei per una parte della città politica americana erano regimi positivi e quindi favorì questa cosa e era ancora a capo del CIO nel 68 quindi interessante vedere ciò che di politico sta sotto agli eventi poi sportivi e poi abbiamo Kiepernik che conoscete tutti perché dal 2016 quando ha fatto ha iniziato in difesa delle persone nere che venivano poste sottoposte alle violenze della polizia ha iniziato a inginocchiarsi quando veniva suonato l'inno nazionale anche lui ha dovuto pagare molto da questo poi ha cercato di recuperare con delle cause perché l'hanno immediatamente escluso da ogni contratto nel football americano degli anni successivi per cui lui non ha più giocato per cui ha dovuto pagare anche lui e però il Black Lives Matter i militanti del Black Lives Matter erano anni di Trump nel 2016 però il Black Lives Matter ha colto nel suo gesto un invito ad una militanza che uscisse anche dallo sport e quindi è diventato un punto di riferimento anche se simbolico però molto importante il campionismo ha questa forza simbolica che nel momento in cui prende una posizione che non è soltanto quella dello sport è sopra qualsiasi cosa e quindi io non dirò mai niente ma quando prende una posizione assume una forza molto importante nella nostra società dello spettacolo e quindi insomma possiamo anche considerarlo come un eroe positivo insomma oggi lo sport crea gli eroi oggi è la dimensione dello sport che crea gli eroi e insomma ogni tanto gli eroi sono positivi non soltanto per le loro prestazioni fisiche ma anche per le loro scelte etiche grazie adesso prova a interrompere ecco 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 grazie 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 i punti sono tantissimi per fortuna appunto abbiamo la registrazione e quindi la possibilità appunto poi di rivedere le slide e riascoltare appunto la relazione che ci hai fatto contestualizzando appunto lo sport nei regimi totalitari nella storia contemporanea è interessante perché anche secondo me gli elementi di continuità cioè il virus diciamo del razzismo che muta sopravvive passa dai totelettorismi alle democrazie tra i nostri studenti e studentesse abbiamo anche alcune atlete alcuni atleti di alto livello che praticano praticano sport chi nei tuffi chi nel nel tiro con la carabina e magari se ci potrebbero essere delle domande eventualmente anche da parte loro delle curiosità anche o degli sputti da riprendere quindi lascerei subito il microfono aperto per chi volesse inserirsi per ogni tipo di intervento io poi ne avrei uno ma me lo tengo così nel congelatore no vediamo prima se ci sono però altre domande da parte degli studenti e delle studentesse ringraziando ancora Gianluca per questa bella carellata che ci ha fatto o magari ecco potreste ecco eventualmente si potreste anche si potrebbero anche mettere scrivere in chat oppure alzare la manina no con questo nostro sistema di di meet per prendere le domande raccogliere raccogliere gli interventi le riflessioni le domande sarebbe interessante sapere anche se sono cose molto nuove se vi ha sorpreso anche Gianluca con questo racconto storico che passa dai campi sportivi e tocca i grandi temi i grandi traumi anche della della storia contemporanea so che è dura rompere il ghiaccio anche a distanza o forse soprattutto a distanza però ci proviamo insomma abbiamo ancora una ventina di minuti ecco c'è una domanda di Elena Prada ecco la vedi Gianluca? ok benissimo grazie a Elena allora ai profili social dunque allora io sono un utente di facebook anche ma però sono so che so che tra i giovani facebook è un po' la cosa dei il social dei vecchietti ho cercato di entrare in facebook perché? perché a un certo punto per comunicare con la mia bolla di amicizio di contatti che ho ho capito che insomma starne fuori era più difficile però conosco molto pochi social conosco la loro potenza no? che nelle ultime lezioni americane abbiamo visto essere una potenza che riesce anche a condizionare un'elezione quindi una potenza pressionante e uno dei sensi di colpa che ho è che facendo la mia paginetta facebook e vivendola nel mio gruppo di amici dopo di scambiare le cose però di fatto io dono i dati di me stesso a questa azienda internazionale potentissima che riesce addirittura a condizionare delle elezioni di un grande stato come gli Stati Uniti però però di fatto è così ed è molto difficile uscire quindi i social sono diventati una delle dimensioni della vita sociale di oggi e gli atleti come diceva Stefano Pivato che è uno degli studiosi della storia dello sport più accreditati in Italia oggi gli atleti sono i nuovi eroi nel senso che nel mondo moderno non ci sono più i grandi combattenti del passato i grandi grandi condottieri ma ci sono gli sportivi e l'identificazione delle persone comune nello sportivo nel grande sportivo nel grande campione è molto forte abbiamo saputo adesso io non ho accennato a Bartali negli anni 30 negli anni 50 ma però lo sapete insomma diventa il nuovo eroe da riconoscere con possibilità di identificazione quindi inoltre altra dimensione lo sportivo adesso quando arriva a un alto livello è un bene economico cioè vale economicamente tantissimo e quindi il grande calciatore ad esempio non gestisce più lui almeno da quello che so la sua pagina facebook o la sua comunicazione ma ha una persona pagata che gliela gestisce e che gliela gestisce non sempre chiedendogli tutti gli aspetti ma dicendogli guarda sono io l'esperto si fa così per cui credo che i profili social degli atleti come siamo noi che andiamo a fare la nostra attività sportiva in maniera umana senza diventare emblema per nessuno sono fanno parte della problematica dei profili social che abbiamo tutti quanti cioè siamo cittadini in una società dove i social dove la dimensione dove anche adesso stiamo dando dalle grandi multinazionali una quantità di dati che loro utilizzano anche contro di noi anche per approfittare di noi però questi sono problemi comuni a tutti il grande campione è diventa nel momento in cui ha un profilo social diventa un prodotto che si vende e che si vende anche con degli profili non soltanto di campionismo sportivo neutro come ha fatto quella gara quali gomme ha montato nel campionato di ciclocross domenica scorsa oppure quale scarpe usa per fare i suoi gol ma anche con degli elementi ogni tanto etici anche se cercano sempre di tenerli fuori questi perché possono dividere e quindi il consumatore che deve comprare la scarpa sponsorizzata o il o la gomma di quel ciclista però se comincia a vedere che quel ciclista prende una posizione politica oppure prende una posizione etica sul razzismo su questa cosa qua può può dividere l'ambito dei suoi consumatori e quindi avere meno successo e calare nel listino proprio nel listino degli sponsor quindi credo che queste cose di profili social dei grandi sportivi dei grandi campioni siano molto limitate al fatto che loro sono in mano a queste aziende e sono dei prodotti commerciali e che la loro indipendenza di giudizio è molto limitata da questo purtroppo perché ad esempio la lotta contro il razzismo avrebbe un grande vantaggio da un'indipendenza di giudizio di soggetti che sono che hanno dei follower come 1500 già Luca Gabrielli no? un buon calciatore ha 1500 volte i miei follower e quindi il grande calciatore si dicesse ma insomma il razzismo nello sport è diventato una vergogna ma la quantità di difosi a cui questo fa riferimento avrebbero dei grossi problemi invece in questo modo qua il fatto che rimanga tutto molto molto neutro è un limite della possibilità poi di rendere una società più fluida e anche più capace di dividersi sulle questioni più importanti io non so se ha risposto grazie Elena che allora ci ha portato sulla stretta attualità vista anche l'ultima slide che ha proiettato prima Gianluca vediamoci qualcun altro appunto desidera inserirsi anche appunto in chat come ha fatto Elena o alzando la manina se vuole prendere se vuole prendere la parola vediamo se ci sono mani alzate no allora non ne vedo allora mentre qualcuno magari così prende forza e scrive o alza la manina allora vorrei a tirare fuori dal congelatore la mia domandina tornando appunto all'epoca dello sport negli anni 30 sostanzialmente quindi appunto negli anni ecco per esempio degli Olimpiadi di Berlino del 36 o appunto negli anni in cui la nazionale di calcio vince i due mondiali lì c'è appunto diceva il professor Gabrielli l'esaltazione della della nazione giovane vincente dinamica che si afferma contro le altre nazioni rappresentando il totale delismo maschile virile maschio ecco però ci sono appunto anche donne atlete non so penso a Undina Valla che vince gli 80 metri ostacoli proprio a Berlino nel 36 e fa anche lei se non sbaglio il saluto romano come i calciatori nel 34 ecco lo sport ecco nella Nell'ONB nell'Opera Nazionale Ballilla poi ci sono le piccole italiane anche loro in uniforme anche loro addestrate appunto in forme di attività fisica per la forza della nazione ecco d'altra parte però il fascismo è profondamente antifeminile e quindi entriamo dentro un po' così una faglia tra promozione dello sport femminile ma anche repressione appunto dell'emancipazione femminile con le campionesse come appunto Andina Valla e Claudia Testoni mi pare secondo Gianluca come potrebbe essere studiato l'aspetto dello sport femminile nel fascismo allora penso che adesso noi quando facciamo queste panoramiche cerchiamo di dare delle indicazioni di lettura poi quando si fa fare lavoro storico lo sai anche tu dopo le situazioni sono molto più sfumate contraddittorie ad esempio nel regime convivono il regime nel 24 quando mette nel suo listone mette praticamente dei fascisti della prima ora dei nazionalisti dei liberali che però hanno avuto paura della sinistra e quindi si sono diventati fascisti molte anime diverse e ognuna di queste anime diverse nella propria idea del corpo e del corpo femminile porta dentro delle situazioni diverse che entrano in conflitto anche durante gli anni del regime per cui c'è chi addirittura vorrebbe e fotografa anche le donne alcune ragazze con il moschetto in mano e altri che invece vedono questa cosa altri fascisti che vedono questa cosa come una cosa assurda che bisogna assolutamente combattere e quindi anche all'interno del regime nonostante il sistema piramidale Mussolini e poi dopo le gerarchie e tutto quanto però però all'interno delle gerarchie nei stati più bassi si lottano varie idee varie idee della dolla che sono quelle del corpo sportivo e del corpo emancipato che deve fare i suoi primi corsi e altre che invece le considerano soltanto come produttrici chi deve gestire la casa e deve produrre figli nel libro di testo del 35 36 della quinta elementare fatto per le bambine quindi specifico per le bambine c'è un decalogo per la bambina dove si dice che la 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 nazione si difende anche spazzando gli angoli della casa uno delle dieci regole per cui cosa veniva insegnato cosa aveva vinto nell'ambito della pedagogia di regime che distribuiva questo libro unico a tutte le bambine che avevano dieci anni che la loro militanza bellica doveva essere fatta in casa era il fronte interno il fronte interno importantissimo in quegli anni fronte interno significa non crollare come nazione che mantiene che si mantiene in vita mentre è sbilanciata per una conquista quel fronte interno era il luogo dove dovevano operare le ragazze le giovani dovevano tenere la casa la famiglia produrre figli in quel momento lì vince questo però nelle attività nelle federazioni sportive in alcune situazioni vincono chi propongono lo sport chi propongono il vestito diverso chi propongono i pantaloncini corti che costituiscono in parte uno scandalo e anche quello lì rispetto ai tradizionalisti quindi anche all'interno del regime vivono i conflitti un aneddoto la mia zia è morta da anni fa però ricordava ancora quando la intervistai che quando era bambina e andavano allo stadio all'ittoriale allo stadio dell'ittoriale di Bologna loro abitavano in periferia ci andavano a piedi ci andavano tutte intruppate con la divisa quindi come piccoli militari la divisa è questo però lei non l'aveva perché alcuni poveri non l'avevano per cui era un pochino tenuta in disparte dietro la fila e andavano allo stadio perché dovevano fare queste grandi coreografie lei li ricorda con un era contentissima di questa cosa e io non capivo perché dicevo ma scusami ti intruppavano addirittura eri quella che non aveva neanche i soldi per la divisa ti mettevano lì poi dovevi andare a fare queste cose guai se sbagliavi ma come facevi io uscivo di casa io era era bellissimo perché noi andavamo uscivamo c'era in parte l'ingenuità della bambina che qualsiasi cosa le fai fare non sappiamo noi che insegniamo bambini molto piccoli qualsiasi cosa le fai fare anche teatro se glielo fai fare insomma poco divertente però insomma lo fanno insieme ai compagni lo fanno in una situazione anche magari con un insegnante molto severo però è sempre divertente ma c'era anche veramente questa prima uscita da casa per cui il regime anche senza volerlo innestò con questo campionismo con questo sport femminile con queste con questa ginnastica fatta anche alle bambine innestò anche nonostante non lo volesse forse un inizio di emancipazione lui non lo voleva però di fatto queste bambine vissero esperienze in comune fuori dalla loro casa uscirono di casa e quindi maturarono poi nel tempo una richiesta di indipendenza di emancipazione che poi prenderanno corpo più avanti nel tempo benissimo grazie sì anche per questo ulteriore approfondimento ecco vediamo allora la parola alle Carduciane e ai Carduciani abbiamo ancora qualche minuto prima di salutarci e di salutare il professor Gabrielli ecco c'è Carlotta Carelli prego eccola qua la domanda in chat grazie Carlotta dunque intanto per l'Italia lo sport è stato uno dei primi luoghi in cui l'idea di essere italiani ha perso la bianchezza per fortuna quando i primi atleti che rappresentavano l'Italia avevano la pelle scura e lì uno dei fondamenti del razzismo vecchio stile è crollato quindi lo sport in quel senso lì è stato importantissimo in Italia perché lo sport è visibile mentre faticheremo a vedere degli insegnanti che arrivano ad esempio dal Corno d'Africa perché ci vuole tempo perché bisogna arrivare qua devono acquisire la cittadinanza devono avere un diploma e poi dopo devono entrare nelle scuole quindi è un meccanismo più lento però è stato più veloce la presenza di studenti che arrivavano da varie parti del mondo per cui la scuola è un luogo fortissimo contro il razzismo perché vivendo assieme ad altri che il razzismo descrive come diversi rimedivamente diversi poi quando li si conosce si vede che non lo sono e quindi è una contraddizione di fatto e quindi tutti gli stereotipi costruiti slittano a confronto con la realtà ma altre situazioni tipo non so annunciatori televisivi non ce ne sono ancora e sarà molto difficile che entrino perché lì la struttura del potere è estremamente rigida e quindi non dà spazio nello sport invece il fatto che si diventa campioni per una fortuna delle proprie capacità fisiche per una fortuna genetica significa che e poi anche per insomma anche per la provenienza magari delle caratteristiche genetiche di alcune da alcune età del mondo ha fatto sì che atleti che fossero arrivati qua in Italia diventassero grandi atleti e quindi si facessero vedere con la maglietta azzurra no? dell'Italia però con la pelle nera e questo ha scombucciolato un po' tutti i criteri lo sport la cosa era già accaduta ad esempio negli anni 60 ma anche negli anni 30 quando c'erano gli oriundi no? i figli di due tre generazioni di emigranti nel Sud America che però magari avevano la pelle anche nera e che venivano a giocare per l'Italia però in quegli anni diciamo negli anni negli anni 60 non c'era la tensione razzista che c'è oggi oggi veramente la questione del razzismo è tornata ad essere dagli anni in avanti in poi una merce politica porta voti essere razzisti purtroppo questa è una delle tristi verità e quindi il fatto di avere degli elementi dei campioni che hanno la pelle nera e che parlano italiano e che sostengono l'Italia e quindi sbriciolano un pochino l'idea di una nazione che abbia anche un corpo identificabile è un grande aiuto poi ovvio che il secondo livello dovrebbe essere quello della presa della presa della parola e alcuni campioni lo fanno alcuni giocatori lo fanno nel momento in cui dal tifo ad esempio vengono fuori gli elementi più discriminatori però altri non lo fanno quello è il quello però è la frontiera che abbiamo tutti noi ognuno di noi nella propria vita comune quando va in autobus e vede un episodio di razzismo decide deve decidere lì sto zitto parlo mi mischio ma faccio i fatti miei ma non so che faccio i fatti miei oppure no dai provo a prendere la parola per fargli capire perché devi dire queste cose ecco quella frontiera lì ce l'abbiamo tutti perché tutti quanti dentro di noi abbiamo un confine tra chi siamo e chi vogliamo essere e questo confine è sempre è sempre da contrattare no? e noi costruiamo noi stessi continuamente le nostre idee le nostre principi morali e li costruiamo anche in questi episodi all'esterno ma quello ognuno di noi conta come un grande atleta a mio parere ognuno deve fare il suo la sua battaglia e quindi è vero si tocca a ognuno di noi beh sarebbe bello poter proseguire ma siamo arrivati alla conclusione allora è un posto che appunto ricordo anche questa relazione questa conferenza questo incontro è stato registrato e appunto sarà presto sul nostro canale youtube dunque allora io ringrazio tutte e tutti voi che avete partecipato e anche le persone che hanno posto le domande hanno fatto dibattito e ringraziamo allora il professor Gabrielli che ci ha tenuto compagnia appunto con questa ricchissima relazione che ci chiama poi in causa appunto come persone come cittadini ecco per cui poi magari con lui rimaniamo in diretta per le questioni amministrative però intanto allora ci salutiamo e ci congediamo insomma grazie a tutti a tutti allora e a presto grazie a voi grazie a tutti